Dopo i toni accesi nell'ultimo Consiglio Comunale, questa mattina in Commissione Commercio c'è stato un chiarimento in relazione alla proposta del gruppo consigliare al Centro per Teramo di riportare la Fiera dell'Agricoltura in Centro Storico. Sì, noi avevamo solamente richiesto una commissione, quindi tutto quel caos politico, che tra l'altro abbiamo fatto anche brutta figura in questo momento particolare per Teramo, noi chiedevamo un confronto, che c'è stato, ci siamo chiariti, abbiamo fatto capire quello che noi veramente volevamo dire, ma non perché vogliamo sostituire un'amministrazione o fare qualche sgambetta o qualche duro, non siamo così noi, noi vogliamo veramente chiedere il confronto e abbiamo parlato di tante situazioni. Vatti becco in particolare tra lei e l'assessore Canzio, acqua passata? Beh guarda, ci siamo detti delle cose anche personali, forse anche brutte, che non devono andare in Consiglio Comunale. Io sì, è chiaro, ho fatto l'assessore e ora sto facendo il consigliere e qualcuno può pensare che io voglio male oppure voglio, oppure diciamo, ecco, sono invidioso di qualche duro, assolutamente no. Ognuno deve fare il proprio lavoro, io cerco di dare le mie idee perché l'obiettivo nostro è far rinascere Teramo e così in commissione ci siamo detti tante idee di come far ripartire il commercio, di come far, diciamo così, tornare Teramo ai grandi eventi. Ma la fiera in centro è no, no ha detto il consiglio e no ha detto la commissione? In commissione non si decideva se si fare la fiera o no, però io ho portato l'idea che volevamo dalla fiera in centro, ma già sapevamo perché appunto in consiglio è stato bocciato che non si faceva in centro. Però l'amministrazione farà degli eventi a Teramo per così anche collegare un po' Teramo e fiera. Quindi quella polemica poi che fa virgolette politica è servita a questo, a dimostrare che dobbiamo essere insieme e uniti per portare avanti dei messaggi importanti e positivi in questo momento di negatività. Veramente ci dobbiamo levare la maschera, essere uniti e levarci veramente la casacca per un unico obiettivo, far rinascere Teramo che proprio ne abbiamo proprio bisogno.